Ciao amici di Libre Infusion, oggi vi presento un unboxing veramente di una cosa veramente rara e veramente poco comune, quasi sconosciuta nel mondo dei videogame. Adesso apriamo la roba, viene da lontanissimo, dall'Egitto, dalle piramide di Tutankhamon, proprio per noi. Cosa ci sarà dentro? E' tanti anni che lo cercavo, oddio, c'è qualcosa, no? Cosa sarà? Cosa sarà? Ma è una console, è un computer rarissimo, del 1985. Un Enterprise Computer, nuovo di fabbrica almeno, per così me l'hanno venduto. Non so come si apre, bisogna aprirlo. E' proprio sigillato, sealant. Enterprise, wow! Questa è la cartuccia del Basic, questo è il computer, ah questo qui è la levetta del joystick. Qua cosa c'è? Praticamente le istruzioni, manuali, la cassetta, mamma mia! Incredibile! Gli anni del tempo qualcosa si è rotto. I cavi Airmic, l'alimentatore, le prese video, le prese antenne, e questo non so, sembra un altro cavo simile al Mic con delle altre prese. Niente, questo ragazzi, è l'Enterprise, qui, ah questo qui è l'adesivo che si va a mettere sotto, lo apriamo, incredibile! PAL, I, PAL inglese, prodotto per pochissimo tempo, nuovo, perfetto, mamma mia che joystick! Come si fa a giocare questo joystick, non lo so. Grazie a tutti, e buona Enterprise a tutti, fra poco a Telenalber Infusion, l'astronave, vi faremo vedere come sono i giochi. Ciao a tutti!